Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, notte fonda qui a Tele Lombardia, ma è stata comunque notte magica. Non è che sia contentissimo del risultato finale, ma sono contentissimo, e dopo farò ovviamente le mie considerazioni, ma sono contentissimo del risultato finale, perché dopo il Milan anche l'Inter è in semifinale di Champions in virtù di questo 3-3. Ero già pronto a dire 3-1, 3-2, invece è stato 3-3 per colpa degli ultimi minuti. Però insomma godiamoci questo grande risultato, lo vedete il tanto contestato, bistrattato, considerato già ex allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, e beh ci ha portato fin qui. Se ha le colpe per tutto quello che sta succedendo in campionato, per lo scudetto dell'anno scorso, è giusto riconoscergli comunque il merito di essere il primo allenatore dopo tanti altri allenatori, insomma dopo Muregno, parliamoci chiaro, a portarci così avanti in Champions. Non era mai accaduto 75.800 gli spettatori a San Siro per un record di incasso di 8.200.000 euro. Faccio subito il discorso finanziario perché occorre farlo. Questa semifinale vale altri 12 milioni e mezzo nelle casse dell'Inter. Ci sarebbe da incazzarsi soltanto dal punto di vista del cassiere per una cosa quindi di zanghe. Allora pensate che se l'Inter non avesse preso il solito gol cretino all'ultimo secondo, avrebbe guadagnato 2.800.000 euro da questa vittoria perché questo è il valore di una vittoria in Champions. Avendo pareggiato alla fine con il Benfica, saranno soltanto 930.000 euro. Sì, avete capito bene, in un battito di ciglia zanga perso 1.900.000 euro. Però che devo fare io? Date, date, vi do già le date. Allora, Milan-Inter, la prima partita è stata iscritta così, si giocherà mercoledì 10 maggio. Il ritorno Inter-Milan si giocherà invece martedì 16. Quindi soltanto sei giorni, sei giorni tra una partita e l'altra. Sicuramente sarà una settimana di passione. Io non cambio idea, desideravo già il derby nei quarti, desidero prendermi una rivincita da quello di vent'anni fa, in semifinale. Conto molto sul fatto che più che i riferimenti di vent'anni fa, dove non c'è più nessuno, facciamoci chiaro, se non i dirigenti, vabbè, Zanetti, Maldini, che però non giocano, beh, insomma, io cerco di guardare con la positività che mi contraddistingue ai derby del 2023. Cioè, siamo nel 2023, guarda i derby del 2023. Quindi il 3-0 a Riyadh, la mia più bella trasferta, visto che ero in Arabia, con tanto di Supercoppa italiana, che praticamente è stata la rivincita compiuta di quella del 2011 a Pechino e anche l'ultimo di campionato, in cui l'Inter è 21-0, ma poteva essere molto più largo il punteggio finale. Certamente una squadra, mi spiace perché adesso veniamo alle note, no, vi do ancora un po' di note positive. Allora, l'attacco si è sbloccato, perché finalmente dopo otto partite, credo fossero otto, sette, insomma, Lautaro ha fatto gol, che è stato il gol del 2-1, provvisorio, e ha segnato pure il Tuku Correa. Primo gol in Champions League, con i tre in campionato, 3-1 il gol temporaneo, 3-1 del Tuku Correa. Quindi questa è una cosa positiva, visto che ho sempre detto che gli attaccanti, insomma, l'ho detto, cioè, questo dicevano le statistiche, all'Inter andavano malissimo, non segnavano più. Ora è chiaro che bisogna sbloccarsi in campionato, perché come dicevano lo scorso video editoriale, e adesso lo dico, qui l'impresa, più che eliminare il Benfica dopo il risultato dell'andata, è andare a vincere ad Empoli, perché naturalmente il campionato resta più che mai impervio per garantirsi un posto in zona Champions. Altre note positive? L'incasso ve l'ho detto, insomma, nessun cartellino giallo, ne avevamo quattro a rischio, eh? Dzeko, Lautaro, poi avevamo bastoni di Marco e persino Inzaghi in panchina. I cartellini gialli sarebbero stati, per questi quattro, un disastro, perché avrebbero saltato le semifinali. Invece in semifinale, dalle semifinali, si azzerano, quindi nel derby, potranno giocare tutti tranquilli, sereni, verso l'eventuale finale, a meno che non ne becchino due nella stessa partita, perché, se non altro, le sanzioni non saranno più progressive, si azzerano tutti. L'attacco sbloccato ve l'ho detto, allora, veniamo alla partita. Al di là del milione e novecentomila euro persi, ripeto, tra i due milioni e otto che vale una vittoria e i novecentotrentamila che vale un pareggio, di solito chi vince festeggia, chi perde spiega. Ecco, l'Inter è proprio unica al mondo, perché è l'unica squadra dove chi fa il cronista come me, oltre a festeggiare, perché sono fisicissimo, non fraintendetemi, deve anche spiegare come cazzo si fa ad un certo punto, quando è una festa, riuscire a prendere non uno, ma addirittura due volte. Praticamente nello spazio degli ultimi sette minuti e la cosa mi fa imbestialire. Perché se prima avevamo dovuto accettare il nostro malgrado il fatto che questa squadra si impegna nelle partite di cartello, adesso fanno in modo che anche nella partita di cartello se al sicuro, perché è chiaro che era al sicuro a un certo punto, cioè sul 3-1, considerando anche i due gol di Lisbona, eravamo 5-1 come risultato aggregato. Bene, allora i signorini hanno pensato bene di fare una serie di inguardabili cazzate negli ultimi dieci minuti di partita. Infatti hanno concesso un palo per una palla persa da Brozovic allucinante al minuto 84, palo di Neres già lì c'è andata bene, però se continui a fare il fenomeno è chiaro che poi all'86esimo punizione di Grimaldo, testa di Antonio Silva, 3-2 con Lukaku, prima aveva sbagliato Brozovic, qui sbaglia Lukaku, e ho detto vabbè, 3-2, ma non potevo credere che a tempo abbondantemente scaduto tale Musa con tutta la difesa dell'Inter dormiente facesse addirittura 3-3. giustificazione di Inzaghi, sì, proprio lui, abbiamo sentito un fischio e ci siamo fermati tutti, c'è anche loro in panchina, cioè, ma è una roba che io non ho sentito onestamente nemmeno all'oratorio, se anche fosse vero, non lo dire, perché se no, voglio dire, qualsiasi tifoso rosso-nero, come il mio amico l'Enrico Sette Champions, che adesso vibra anche lui dall'altra parte per questo derby, cosa gli devo consigliare? Di andare con un fischietto a San Siro, mettersi nei pressi della difesa dell'Inter e cominciare a fischiare. Cioè, è una roba questa, onestamente, caro Simone, guarda, sai che onestamente dal punto di vista della comunicazione ti ho sempre detto tu non puoi dire una roba del genere che il 3-3 è frutto di un fischio sentito e quindi tutti si sono fermati, perché è una roba che non accade neanche all'oratorio. Il dramma è che i più anzianotti come me ricorderanno che c'è pure un precedente, mi pare, sono andato a controllare, credo il 12, marzo, adesso magari non me lo ricordo appena visto, ma 12 marzo dell'88, campionato brutto, 87-88 allenatore tra pattone, c'è a San Siro un Inter Roma che finisce 4-2, tale Salvatore Nobile, esterno sinistro dell'Inter, sente un fischio mentre sta giocando la palla in area, la prende con le mani, l'arbitro lo guarda e gli dice ma che cazzo fai? E ha fischiato, no io non l'ho fischiato, rigore per la Roma, cioè rigore per la Roma, segnato, vabbè, quella è finita 4-2, ma Giallini era parsa una roba, ma io dico, ci sono 75.300 persone a San Siro, ma uno, cioè tutto, tutto senti, Cioè è chiaro che senti tutto, senti l'entusiasmo, cioè ma è normale che uno dica e abbiamo sentito un fischio e ci siamo fermati, vabbè, però siccome dobbiamo festeggiare, cioè però io devo fare il cronista, cioè perché questi ragazzi mi arrivino alle due semifinali di Champions, io devo indurli a migliorare, glielo devo dire che non è possibile fare questi errori anche quando la partita è al sicuro, perché poi se ti abitui ogni volta come hai già fatto in campionato a spegnere la luce perché tanto ormai non ci prendono più, è la volta che magari una partita, magari Dio voglia che il derby sia già messo bene e ho capito se tu lo riapri sei un fesso, sei un fesso e quindi io queste cose ragazzi le dico, le dico, perché mi illudo che magari prima o poi cambino. Chi va in finale? Va in finale chi sta meglio di testa, ve lo dico già adesso, chi starà meglio di testa andrà in finale. Io mi appello ovviamente mi attacco ai derby del 2023 qualcun altro si attaccherà al fatto che il Milan ha vinto lo Scudetto un anno fa i rossoneri ci hanno battuto vent'anni fa a me non me ne frega niente. Vent'anni fa probabilmente che ne so io c'era sto pensando a un'attrice c'era Olivia Newton-John oggi c'è Jessica Alba non è che io posso parlare di Olivia Newton-John di vent'anni fa adesso parlo di quello di oggi e quindi i precedenti del 2023 sono a nostro favore cominciamo a dirlo però il Milan ha più testa e lo ha dimostrato nelle due partite di Napoli l'ha dimostrato nelle due partite di Napoli perché loro stanno concentrati 95 minuti e non a caso sono arrivati in semifinale l'Inter non in campionato ma in Champions l'aveva dimostrato a sua volta tant'è che abbiamo sempre detto cavolo però quando c'è la partita di Champions come a Lisbona 2-0 stanno concentrati ecco diciamo che è capitato per la prima volta anche in Champions quell'atteggiamento sciatto che a me non piace che tante tante volte abbiamo visto in campionato e adesso non voglio neanche parlare di Empoli Inter quindi secondo me in finale ci va chi ha più testa adesso abbiamo già un bellissimo banco di prova per dimostrare che abbiamo testa il 26 aprile c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia 1-1 all'andata io mi auguro che se l'Inter dovesse in qualche modo indirizzare la partita come è accaduto col Benfica in una certa direzione ovviamente non ricada nel solito avvilente atteggiamento di darla già per vinta e ma mi dicono e ma Gianluca sai a un certo punto si era sul 5-1 la partita è chiusa ti puoi pure distrarre no cazzo no no non va bene non va bene ragazzi non va bene e ma se la partita fosse stata più in bilico questo non sarebbe successo cazzo peggio ancora perché quindi mi stai ulteriormente dicendo che sei uno che sceglie i momenti in cui essere concentrato i momenti in cui ma devi essere sempre spalle al muro per rendere adesso lo vedremo perché più che spalle al muro in campionato non c'è null'altro per il resto ragazzi altro grandissimo gol di Barella altro grandissimo Dzeko spizza per Lautaro Barella rientra di tacco e col mancino va a mettere la palla nel 7 bellissimo gol a Lisbona bellissimo gol qui di Barella e da lì addirittura raddoppio annullato a Lautaro per una spinta su traversone di Dzeko questo più o meno alla mezz'ora però mi sembrava proprio indirizzata bene loro avevano fatto una punizione pericolosa con Grimaldo parata di Onana e ho detto vabbè veleggiamo verso un primo tempo in vantaggio non l'avessi mai detto sbagliano il fuorigioco e naturalmente c'è il gol dell'1-1 si va all'intervallo col gol di Aurnes perché nessuno chiuderà fa Cerbi fuori posizione arriva Dunfris in ritardo e ciao ti saluto Rosina 1-1 vabbè poi all'ora di gioco Di Marco Mkhitaryan Di Marco Lautaro 2-1 si sblocca Lautaro sul tuo contento poi si cambia l'attacco che ci stava in quel momento fuori naturalmente Lautaro e Dzeko dentro Lukaku poca roba e Correa e Correa addirittura fa il 3-1 con un bellissimo gol sempre su assist di Marco porca miseria siamo al minuto 78 e si è sbloccato anche il tuco ma va che bello bene da lì come ho pensato io che sto in telecronaca ma io lo posso pensare beh è fatta lo pensavo già prima ve lo dico sinceramente però come lì ho detto vabbè è fatta niente all'84esimo errore di Brozo Palo di Ners è già un campanello d'allarme addirittura all'86esimo sulla punizione Lukaku non salta bene su Antonio Silva ed è 3-2 minchia all'87esimo dico oh tre minuti da giocare più quattro di recupero basta finiamo 3-2 no sono riusciti con la scusa di aver sentito un fischio a far segnare uno che era appena entrato e appena già preso anche il giallo tale Musa 3-3 io continuo a dirlo questa squadra deve nel più breve tempo possibile ritrovare la cabeza ragazzi perché se non ritrova la testa è chiaro che anche il derby questi due derby del 2023 dopo i due vinti dall'Inter e beh ragazzi se non hai la testa non vai da nessuna parte ci siamo capiti bene adesso ribadisco l'impresa è battere l'Empoli complimenti a Simone Inzaghi alla squadra di essere arrivati all'Euro derby di semifinale di Champions sono molto contento però ragazzi la testa ritroviamo un minimo di cervello ciao a tutti un bacio e viva l'Inter grazie a tutti